Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica e la santa vergine vi protegge Laudentur Iesus et Maria benvenuti a tutti voi carissimi amici e amiche alla 26esima puntata del ciclo di catechesi intitolato Il mistero di Giuda tratto dalla raccolta dei brani riguardanti la figura di Giuda Scariota tratti dall'opera di Maria Valtorta e editi come sappiamo dal centro valtortiano in questa puntata abbiamo da leggere da meditare e da commentare un capitolo che si intitola Prende le difese di Gesù contro i nemici giudei quindi come possiamo presagire dal titolo si tratterà presumibilmente di una delle volte in cui appare quel volto di Giuda diciamo così positivo quindi il fatto che non esiste come dire una persona intrinsecamente cattiva non esiste ovviamente in quanto creata dall'altissimo esiste sempre una reale possibilità per noi in qualunque momento di convertirci di cambiare direzione con l'importante continueremo a vedere a seguire che si tratti di una volontà ferma sincera autentica e poi postante e perseverante io amo ricordare un'espressione molto cara Santa Teresa Davila che amava a ripetere per intraprendere un cammino di conversione di santificazione non ci vuole chissà che non necessita una virtù perché se uno si deve convertire e deve santificarsi è chiaro che deve lavorare per acquisirle quindi non ce ne ha però alcune cose servono una volontà ferma e risoluta le diceva e quindi non una mezza volontà o una volontà claudicante e al tempo stesso però una anche grande costanza e perseveranza queste due parti della virtù cardinale e della fortezza senza le quali non si ha e non si dà un autentico cammino di conversione e santificazione comincio la lettura c'è come sempre prima un trafiletto introduttorio e poi il testo di oggi le giornate meno piovose permettono alla gente di ritornare all'acqua speciosa dove Gesù continua ad ammaestrare illustrando i comandamenti della legge e da sanare corpi e anime chiedo scusa il suo discorso sul tema non ammazzare si conclude con la morte maestro io non sono tranquillo perché Giuda per quelli di Gerusalemme io li conosco lasciami andare là per qualche giorno non ti dico neppure di mandarmi solo anzi ti prego che ciò non sia mandami insieme Simone e Giovanni quelli che mi furono tanto buoni nel primo viaggio in Giudea uno mi frena l'altro mi purifica anche nel pensiero non puoi credere che sia Giovanni per me è una ruggiata che calma i miei ardori ed un olio sulle mie acque agitate credilo lo so dice Gesù e non te ne devi stupire perciò se io lo amo tanto è la mia pace ma anche tu se sarai sempre buono sarai il mio conforto se tu userai i doni di Dio e ne hai molti nel bene come fai da qualche giorno diverrai un vero apostolo e tu mi amerai come Giovanni io ti amo lo stesso Giuda ma solo ti amerò senza affanno e dolore oh maestro mio come sei buono va pure a Gerusalemme non gioverà nulla ma non voglio deludere il tuo desiderio di giovarmi ora lo dirò subito a Simone e Giovanni andiamo lo vedi come soffre il tuo Gesù per certe colpe sono come uno che ha sollevato un peso troppo forte non mi dare mai questo dolore mai più no maestro no ti voglio bene lo sai ma sono un debole l'amore fortifica risponde Gesù entrano in casa tutto a fine Gesù rimane all'acqua speciosa con nove dei suoi discepoli dopo qualche altro giorno di ammaestramenti dice alla folla figli miei nel Signore la festa della purificazione è ormai imminente e ad essa io luce del mondo vi mando preparati con quel minimo necessario a ben compierla il primo lume della festa da cui trarrete fiamma per tutti gli altri perché ben stolto sarebbe colui che pretendesse accendere molti lumi non avendo come accendere il primo e ancora più stolto sarebbe colui che pretendesse di iniziare la sua santificazione dalle cose più ardue trascurando ciò che è la base dell'edificio immutabile della perfezione cioè il decanogo l'acqua speciosa è senza pellegrini perché nei giorni che seguono la sua predicazione è sospesa per consentire la celebrazione di questa festa e pare strano vederla così senza bivacchi di chissostro una notte o almeno consuma il suo passo sull'aio sotto la tettoia non vi è che nitore e ordine oggi senza nessuna di quelle tracce che un affollamento lascia di sé i discepoli occupano il tempo in lavori manuali chi intrecciando vimini per farne nuove trappole i pesci e chi lavorando intorno a piccoli lavori di sterro e di incanalamento delle acque dei tetti perché non staglino sull'aio Gesù è ritto in mezzo a un prato e sbriciola del pane ai passerotti a perdita d'occhio non un vivente nonostante la giornata serena stanno ancora mangiando e già hanno acceso le lampade perché la sera scende rapidissima e anche la sizza consiglia a tenere chiusa la porta quando viene bussato all'uscio e la voce allegra di Giovanni si fa sentire bentornati avete fatto presto che c'è dunque come siete carichi tutti parlano insieme aiutando i tre a liberarsi dalle pesantissime sa che chi hanno sulle spalle adagio lasciateci salutare il maestro ma un momento vi è un tumulto allegro familiare per la gioia di essere insieme vi saluto amici Dio vi ha dato giornate serene sì maestro ma non serene notizie lo prevedevo dice di scarione che c'è che c'è la curiosità è desta fate che siano prima rifocillati dice Gesù no maestro prima ti diamo quanto abbiamo per te e per gli altri e per primo Giovanni dai la lettera la Simone io rimevo di sciuparla nel carico lo zelote che è stato in lotta fino a loro con Tommaso che lo voleva servire di acqua per i suoi piedi stanchi a correre dicendo lo ha qui nella borsa della cintura e apre questa tasca interna della sua alta cintura di cuoio rosso estraendone un rotolo ormai di venuto pianto è tua madre quando siamo stati presso Betania abbiamo incontrato Gionata che andava da Lazzaro con la lettera e molte altre cose Gionata va a Gerusalemme perché Cusa mette in ordine il suo palazzo forse Erode va a Tiberiade e Cusa non vuole la moglie presso Erodiade spiega di Scariota mentre Gesù scioglie i nodi del rotolo e svolge lo stesso gli apostoli bisbigliano mentre Gesù legge con un sorriso beato le parole della mamma dopo il saluto a Gesù mio dolce figlio e signore pace e benedizione la lettera della madre dice che Gionata ha avuto la bontà di portare a lei doni da parte di Giovanna di Cusa e di prendere vettovaglie e vesti che madre e mogli mandano ai discepoli di Gesù e a Gesù stesso toccanti sono l'espressione della madre che non si sente mai divisa dal figlio anche quando la lontananza fisica non le permette di accarezzarlo o dirlo e servirlo e venerarlo come Messia e Signore le notizie che lei dà accennano le visite che riceve non solo di amici che benedicono ma anche di nemici che maledicono fino a dover riferire Giuseppe d'Alfeo vuole che tu sappia che egli in un recente suo viaggio per affare a Gerusalemme fu fermato e minacciato per causa di te erano uomini del gran consiglio arrivano fine in quella casa con gli spudorati urla Pietro e Giuda Taddeo esclama Giuseppe se la poteva tenere per sé la notizia ma non gli è sembrato il vedolo di poterla dare voce di Iena non spaventa i vivi sentenzia Filippo il male è che non sono Iene sono tigri cercano preda viva dice l'Iscariota e volgendosi allo zelote di tu quanto abbiamo saputo sì maestro Giuda aveva ragione di temere siamo andati da Giuseppe da Rimatea e da Lazzaro e lì come aperti amici tuoi e poi io e Giuda come se io fossi un suo amico di infanzia ad alcuni suoi amici di Sionne e Giuseppe e Lazzaro ti dicono di venire via subito durante queste feste non insistere maestro è per tuo bene gli amici di Giuda poi hanno detto guarda che è già deciso di venire a sorprendere per accusarlo proprio in questi giorni di feste in cui non c'è popolo si ritiri per qualche tempo per deludere queste vipere la morte di Doras ha aizzato il loro veleno e la loro paura perché hanno paura oltre che odio e la paura fa loro vedere ciò che non c'è e l'odio fa dire anche la menzogna tutto ma tutto sanno di noi è una cosa odiosa è tutto alterato è tutto esagerano e quando pare loro che non ci sia ancora abbastanza per maledire inventano io sono nauseato e accasciato mi viene volontà di esulare di andare non so lontano ma via da questo Israele che è tutto un peccato l'iscariota è depresso Giuda Giuda una donna per dare al mondo un uomo lavora a nove lune tu per dare al mondo la conoscenza di Dio vorresti fare più presto non nove lune ma millenni di lune ci vorranno e come la luna nasce e muore ad ogni lunazione apparendoci neonata poi piena e poi scema così sempre nel mondo finché sarà ci saranno fasi crescenti piene e decrescenti di religione ma anche quando sembrerà morta essa viva sarà così come la luna che c'è anche quando pare sia finita e chi avrà lavorato a questa religione ne avrà merito pieno anche se solo una minoranza esigua rimarrà sulla terra di anime fedeli su su non facili entusiasmi nei trionfi e non facili depressioni nelle sconfitte penso che questo discorso di Gesù si dia la possibilità anche per interrompere come dire la la poi possibile monotonia della lettura per quanto io mi sforzi specialmente in questi testi un po' drammatizzati di rendere un po' la drammatizzazione però è molto importante fare questa piccola sosta di riflessione questo bellissimo discorso che Gesù ha fatto e che fondamentalmente ci rimanda all'importanza dei tempi dei tempi le cose di Dio le cose che riguardano la fede la conoscenza di Dio qui nomine esplicitamente Gesù è un processo per il quale si deve lavorare si deve lavorare ma richiede tempo e procede non per niente sapete che a fine tempi della matristica la chiesa è stata sempre indicata con l'immagine della luna perché è un astro che brilla non di luce propria ma di luce riflessa noi sappiamo bene adesso che siamo intelligenti che la luna non si vede quando praticamente la terra si sovrappone al disco lunare il sole sta dietro e quindi la luna pare che non ci sia per i momenti in cui la luna non c'è e poi riesce fuori perché appunto piano piano si scopre la luna perché la terra si sposta si muove fino poi a riapparire quindi fasi crescenti e fasi decrescenti della fede questo vi studia la storia della chiesa lo vedrà ci possono essere dei momenti di eclisse come le chiesi lunari quindi quando sembra che sembra che sia scomparsa che non ci sia più ma mai di sperare perché questo non è così quindi la luna può essere oscurata perché appunto la terra si sovrappone o perché va in eclisse ecco ma è destinata a ricomparire non può scomparire questo è un grande messaggio ed anche poi l'esaltazione finale quindi niente entusiasmi nei trionfi e niente depressione nelle sconfitte ed anche un monito certamente penso qualificabile come attuale chi avrà lavorato a questa religione ne avrà merito pieno anche se solo una minoranza esigua rimarrà sulla terra di anime fedeli la situazione di oggi è che come sappiamo moltissimi nel vecchio continente almeno hanno proprio completamente abbandonato la fede quindi non si riconoscono più nella fede divina cattolica ma la cosa ancora più triste è che anche quelli che sono rimasti nella chiesa cattolica non sempre non sempre possono qualificarsi siccate sempliciter come anime fedeli non sempre io fin dai tempi in cui ero un giovanissimo prete insomma giovanissimo non tanto perché c'avevo comunque quasi tre anni sono stato ordinato che avevo quasi trentatré anni però prete diciamo di fresco ricordo l'omeree che facevo sulla cosiddetta fede fai da te che oggi è ampiamente diffusa c'è un larghissimo soggettivismo e relativismo e le persone quindi hanno perso anche il come dire il contatto con l'oggettività della fede e della morale molte volte c'è una idea semplicemente molto molto vaga e molto generica di cristianesimo è molto molto vaga di chiamiamoli così valori morali quasi sempre coincidenti con quello che è il comune sentire oggi della cosiddetta società civile ma con lo smarrimento di molte altre cose ma sono cose che sappiamo ma questo chiunque lavora nella vigna del signore non deve mai dare occasione o adito per desistere per demordere perché se anche fossero poche le anime che beneficiano di chi lavora anche allacremente nella vigna del signore va bene allo stesso a gesù viene obiettato da parte di giuda ma però vieni via non siamo noi forti ancora e sentiamo che davanti al sinedrio avremmo paura io almeno gli altri non so ma credo in prudenza tentarlo non abbiamo il cuore dei tre fanciulli della corte di Nabucodonosor si maestro è meglio è prudente giuda ha ragione vedi che anche tua madre e parenti e lazzare giuseppe facciamoli venire per niente gesù apre le braccia e dice sia fatto come volete ma poi si ritorna qui voi vedete quanti vengono io non forzo e non tento l'anima vostra non la sento pronta infatti ma vediamo i lavori delle donne però mentre tutti con occhi lieti e voci di gioia estraggono dalle bisacce i pacchi con le vesti i sandali e le cibarie delle madri e delle mogli e tentano di interessare Gesù ad ammirare tanta grazia di Dio e gli resta mesto e distratto legge e rilegge la lettera materna si è rincattucciato con una lucernetta nell'angolo più lontano dal tavolo su cui sono vesti e mele vasetti di metallo e formaggelle con una mano a far visiera agli occhi pare meditare ma soffre è notte alta quando lasciano l'acqua speciosa sono tutti diretti a Doco dove Gesù è atteso per una promessa fatta da una vecchiarella e poi vanno a Betania dove celebrano le incenie o festa dei lumi e della purificazione con i pastori che rievocano la natività fanno quindi ritorno all'acqua speciosa questi trafiletti sintetizzano vari capitoli che si succedono insomma nel brano chi ha scritto questa cosa ha avuto veramente la grande intelligenza di accorpare per temi i vari passi anche facendo degli discursi abbastanza ampi sui vari capitoli dell'opera sul Vangelo Gesù traversa insieme ai suoi apostoli i campi piatti dell'acqua speciosa la giornata è piovosa e il luogo deserto deve essere verso mezzogiorno perché quella larva di sole che esce ogni tanto da dietro il sipario bigio delle nuvole scende a perpendicolo Gesù parla con l'iscariota al quale dà l'incarico di andare al paese per gli acquisti più urgenti quando resta solo lo raggiunge Andrea è sempre timido dice piano mi ascolti maestro sì vieni con me avanti e allunga il passo seguito dall'apostolo dirungandosi di qualche metro dagli altri la donna non c'è più maestro dice accorato Andrea e spiega l'hanno percossa ed è fuggita era ferita e sanguinava il fattore l'ha vista sono andato avanti dicendo che andavo a vedere se non c'erano insidie ma era perché volevo andare subito da lei speravo tanto di portarla alla luce ho tanto pregato in questi giorni per questo mi dicevi che fattore l'ha vista racconta questa chiaramente quella di cui sta parlando è la peccatrice Aglae tre giorni dopo che eravamo partiti sono venuti dei farisei a cercarti non ci hanno trovato è naturale hanno girato il paese e le case della campagna mostrandosi ansiosi di te ma nessuno lo ha creduto si sono messi all'albergo sbrattandolo superbamente da tutti quelli che c'erano perché dicevano non volevano contatti con estranei ignoti che potevano anche profanarli e tutti i giorni andavano alla casa dopo qualche giorno hanno trovato la poverina che andava sempre là perché forse sperava trovarti e avere la sua pace e l'hanno fatta fuggire inseguendola fino al suo ricovero nella stalla del fattore subito non l'hanno aggredita perché egli era venuta fuori coi figli e armati di randelli ma poi a sera quando lei è uscita sono tornati ed erano insieme ad altri e quando ella fu alla fonte a sassate l'hanno presa chiamandola meretrice e additandola all'obroglio del paese e poiché lei fuggiva l'hanno raggiunta malmenata le hanno strappato il velo e il mantello perché tutti la vedessero e ancora l'hanno picchiata imponendosi con la loro autorità al sinagogo perché la male dicesse per farla lapidare e maledicesse te che l'avevi portata in paese ma lui non ha voluto fare e ora attende l'anatema del Sinedri il fattore l'ha strappata alle mani di quei manigoldi e l'ha soccorsa ma nella notte lei se ne è andata lasciando un bracciale con una parola scritta su un brandello di pergamino ha scritto grazie prega per me il fattore dice che è giovane e bellissima benché molto pallida e magra l'ha cercata per le campagne perché era molto ferita ma non l'ha trovata e non sa come possa essere andata lontano forse è morta così in qualche posto e non si è salvata no esclama perentorio Gesù no non è morta o non si è perduta la volontà di redenzione dice Gesù è già assoluzione anche fosse morta sarebbe perdonata perché ha cercato la verità mettendosi sotto i piedi l'errore ma non è morta sale le prime pendici del monte della redenzione io la vedo curva sotto il suo pianto di pentimento ma il pianto la fa sempre più forte mentre il peso decresce io la vedo procede incontro al sole quando avrà salito tutta la china ella sarà nella gloria del sole Dio sale aiutala col tuo pregare oh mio signore Andrea è quasi sterrefatto di poter aiutare un'anima alla sua santificazione Gesù sorride più dolce ancora dice bisognerà aprire le braccia e il cuore al perseguitato sinagogo e andare a benedire il buon fattore andiamo dai compagni a dirlo loro ma mentre rifacendo il cammino ha già fatto raggiungono i dieci che si sono fermati in disparte comprendendo che Andrea è in colloquio segreto col maestro viene di corsa di scariota pare un farfallone che scorra sul prato tanto corre veloce col mantello che gli svolazza dietro e facendo con le braccia una vera giostra di segno ma che ha chiede Pietro è diventato matto prima che nessuno possa rispondergli l'iscariota giunto vicino può gridare col fiato mozzo fermo maestro ascoltami prima di andare alla casa insidia c'è oh che vigliacchi e corre eccolo giunto oh maestro non si può più andare là i farisei sono in paese e tutti i giorni vanno alla casa ti aspettano per nuocerti mandano via chi viene a cercarti con anatemi orrendi li spauriscono che vuoi fare qui saresti perseguitato e la tua opera resa nulla uno di loro mi ha visto e mi ha aggredito un brutto vecchio nasuto che mi conosce perché è uno degli iscrivi del tempio perché ci sono anche degli iscrivi mi ha aggredito afferrandomi con le sue zampe unghiute ed insultandomi con la sua voce di falco finché ha insultato me e mi ha graffiato guarda l'ho lasciato fare e mostra un polso e una guancia decorati di chiari segni di unghie ma quando ha sbavato su te l'ho preso per il collo ma Giuda urla Gesù no maestro non l'ho strozzato gli ho solo impedito di bestemmiarti e poi l'ho lasciato andare ora è là che muore di paura per il pericolo corso ma noi andiamo via te ne prego tanto nessuno potrebbe più venire a te maestro ma è un orrore Giuda ragione come iene all'agguato sono fuoco del cielo che scendessi su Sodoma a che non torni mi sa che ma sai che sei stato bravo ragazzo peccato che non c'ero anch'io ti avrei aiutato chissà che dice queste cose Misi oh Pietro se c'eri anche tu quel falchetto aveva per sempre perduto le penne e la voce ma come hai fatto a non andare fino in fondo ma un lampo nella mente il pensiero è venuto da chissà qual fondo di cuore e il pensiero diceva il maestro condanna la violenza e mi sono fermato avendo un urto ancora più profondo di quello che avevo ricevuto dal muro contro cui mi aveva gettato lo scrivo che hanno mi aggredito ne ho avuto i nervi come spezzati tanto che dopo non avrei avuto più forza di infierire che fatica vincersi sei proprio stato bravo vero maestro non esprimi il tuo pensiero Pietro è tanto felice del lato di Giuda che non vede come Gesù sia passato dal luminoso piso di prima ad un volto severo che gli scurisce lo sguardo e gli serra la bocca che pare farsi più sottile la apre per dire io dico che sono più disgustato del vostro modo di pensare che della condotta dei giudei loro sono dei disgraziati nelle tenebre voi che siete con la luce siete duri vendicativi mormoratori violenti approvatori dell'atto brutale come loro vi dico che mi date la prova di essere sempre quelli che eravate quando mi vedeste per la prima volta e ne ho dolore riguardo ai farisei sappiate che Gesù Cristo non fugge voi ritiratevi io li affronto non sono un vile quando avrò parlato con loro e non li avrò persuasi mi ritirerò non si deve dire che io non ho cercato con ogni mezzo di atterrarli a me sono essi pure figli di Abramo io faccio il mio dovere fino in fondo la loro condanna deve essere causata unicamente dalla loro mala volontà e non da una mia trascuranza verso di loro anche qui grandi insegnamenti da parte di di nostro Signore a tutti noi perché penso che sarebbe stato difficile non prendere per il collo quello scriva e se qualcuno ce lo veniva a raccontare sarebbe stato difficile ahimè io dico queste cose con tanto dolore perché Gesù ha manifestato la sua chiara sofferenza per questo però c'è questa parte di noi la parte umana di noi che dobbiamo sempre cercare di tenere a bada e di mortificare di far morire perché viva purtroppo quindi Gesù rimproverà gli apostoli per scendere a livello quindi per e e non si vince il male in questo modo e però rifiuta la proposta di fuggire bellissima questa frase sappiate che Gesù Cristo non fugge e non fugge prima perché non è umile e secondo perché anche nei confronti di questi deve compiere la sua opera sono figli di Abramo e quindi un tentativo lo devo fare per fargli ragionare solo dopo che l'avrò fatto quindi dopo che sarà evidente che non raggiungono la salvezza solo a causa della loro mala volontà allora ne riparliamo dopo me ne vado chiaramente amici principi e considerazioni oltremodo importanti no? non è sempre facile distinguere per esempio la prudenza dalla viltà sono i grandi quesiti grandi domande che penso in molti ci portiamo non voglio dire tutti ma il discernimento in certe situazioni dice che faccio è viltà fare un passo indietro o è prudenza è fortezza non fare questo passo indietro o è temerarietà per questo è così importante la preghiera perché su queste cose amici almeno per quanto ne so io non è che ci sono soluzioni precostituite non per niente il Signore ci raccomandò di pregare pregare costantemente incessantemente perché le luci e le grazie dal cielo arrivano però dobbiamo chiederle attraverso la preghiera costante e perseverante quindi e Gesù va verso la casa che mostra il suo tetto basso oltre una riga di alberi spogli gli apostoli lo seguono a capobasso parlando piano fra loro eccoli alla casa entrano nella cucina in silenzio e si danno da fare intorno al fuocolare Gesù si assorbe nel suo pensiero stanno per prendere il cibo quando un gruppo di persone si mostra alla porta eccoli bisbiglia di scariota Gesù si alza subito e va verso di loro è imponente tanto che il gruppetto arretra per un attimo ma il saluto di Gesù li rassicura la pace sia con voi che volete allora i vili credono di poter tutto usare e arrogantemente intimano in nome della legge santa ti ordiniamo di lasciare questo luogo tu turbatore delle coscienze violatore della legge corruttore delle tranquille città di Giuda non temi la pulizione del cielo tu scimmiottatore del giusto che battezza al Giordano tu che proteggi le meretrici via dalla terra santa di Giuda che il tuo alito non giunga da qui entro la città della città sacra Gesù risponde io nulla faccio di male insegno come rambi guarisco come taumaturgo caccio i demoni come esorcista queste categorie sono pure in Giuda è Dio che le vuole le fa rispettare e venerare da voi io non chiedo venerazione chiedo solo di lasciarmi fare del bene a coloro che hanno infermità nella carne nella mente o nello spirito perché me lo vietate tu sei un posseduto vattene l'insulto non è una disposta io gli ho chiesto perché me lo vietate mentre gli altri lo permettete perché sei un posseduto e scacci i demoni e fai i miracoli con l'aiuto dei demoni e i vostri esorcisti allora con l'aiuto di chi lo fanno? con la loro vita santa tu sei un peccatore e per aumentare la tua potenza ti servi delle peccatrici perché nel connubio si aumenta il possesso della forza demoniaca la nostra santità ha purificato la zona dalla tua complice ma non permettiamo che tu resti qui per non attirare altre femmine ma è casa vostra questa chiede Pietro che è venuto vicino al maestro con aspetto poco raccomandabile non è casa nostra ma tutto Giudeo e tutto Israele è nelle mani sante dei puri di Israele che sareste voi termina l'iscariota è venuto anche lui sull'uscio e che termina con una risata beffarda e poi chiede e l'altro amico vostro dov'è? trema ancora? oh vergognosi andatevene subito altrimenti vi farò pentire di silenzio Giudeo e tu Pietro torna al tuo posto udite voi farisei e scrivi per il vostro bene per pietà dell'anima vostra io vi prego di non combattere il verbo di Dio venite a me io non vi odio capisco la vostra mentalità e la compatisco ma vi voglio portare ad una mentalità nuova santa capace di santificarvi e darvi il cielo ma credete che io sia venuto per combattervi oh no io sono venuto per salvarvi sono venuto per questo vi prendo sul cuore vi chiedo amore e intelletto appunto perché siete i più sabienti in Israele dovete comprendere più di tutti la verità siate anima e non corpo volete che io ve ne supplichi in ginocchio la posta è tale l'anima vostra che sotto i piedi mi metterebbe a conquistarla al cielo sicuro che il padre non reputerebbe errore il mio umiliarmi dite dite una parola a me che attendo maledizione diciamo va bene è detto andate pure io pure andrò e Gesù volge le spalle tornando al suo posto curva il tavolo il capo sul tavolo e piange Bartolomeo chiude la porta perché nessuno ha dei crudeli che lo hanno insultato e che se ne stanno stanno andando con minacce e bestemmi al Cristo veda questo pianto un lungo silenzio poi Giacomo andremo in Galilea domani mattina partiremo non oggi signore no devo salutare i buoni del luogo e voi verrete con me finisce qui un'altra volta e lui si difende e lui si difende vedete sempre con quella sua grande pacatezza e con quella sua capacità questo dobbiamo parlare tutti di argomentare pacato senza mai scendere a livello e facendo quindi appello e questo Dio fa sempre così con noi a cosa calma mettili seduto rifletti ragiona guarda con attenzione quando gli rispondono tu sei un po' seduto dice l'insulto non è una risposta io vi ho chiesto perché me lo vietate vedete l'argomentare il il provocare diciamo così ancora no una riflessione Gesù è bravissimo ovviamente a fare questa cosa quello che si è beccato le insinuazioni no tu sei un po' seduto peraltro dicono anche una cosa che è tutto falsa non è quindi tu c'è questa meretrice e vai in connubio con lei quindi stanno dicendo a Gesù che è un fornicatore e perché vai in connubio con lei perché nel connubio con lei aumenta la forza demoniaca e quindi fai esorcismi ancora più strepitosi e miracoli ancora più strepitosi gli dicono questo dopo che gli hanno detto attenzione turbatore delle coscienze turbatore delle coscienze violatore della legge corruttore delle tranquille città di Giuda al nostro Signore Gesù Cristo dinanzi a tutto questo frena Giuda frena Pietro e fa un bel discorsetto per il vostro bene per pietà dell'anima vostra io vi prego di non combattere il verbo di Dio dai venite a me dai non vi giudico non vi condanno non vi odio anzi vi capisco c'è una mentalità atavica accumulata per tanti secoli ascoltate io vi chiedo che cosa vi chiedo lo chiedo a tutti Gesù anche a noi anche a me amore e vedete e intelletto amore e intelletto siete più sapenti in Israele ma allora sarete i primi a comprendere meglio tutta la verità no dice volete che mi metti in ginocchio per farvi questa domanda ma vi ci rendiamo conto che sta parlando sta parlando il figlio di Dio la posta è tale che sotto i piedi i vostri mi metterei per conquistarla al cielo la vostra anima e dopodiché c'è la conclusione fondamentale focale oserei dire dite una parola a me che attendo li ha smontati li ha esortati adesso li invita a dire appunto quella parola che è un atto del libero arbitro va bene signore ok hai vinto ci mettiamo in ascolto non è che subito subito ci convertiamo però una chance te la diamo sarebbe stata fatta cosa fanno maledizione diciamo cosa che fa piangere Gesù ecco abbiamo sentito Gesù non piange per sé perché è stato umiliato e maltrattato in quel modo becero ma addirittura piange per loro che si uccidono sono suicidi sordi e doni in vita il grandissimo dramma io sono sempre molto scosso quando leggo queste cose perché personalmente il dramma perché è un dramma della possibilità del cattivo uso della libertà è una cosa che mi non dico mi fa paura però mi fa pensare dice San Paolo chi crede di stare in piedi vadi di non cadere no preghiamo anche al Signore che ci salvi e ci preservi dalla durezza dalla sordità dal chiudere il cuore dall'indurimento del cuore dall'indurimento del cuore grande grande male certamente edificati anche da queste cose che abbiamo ascoltato concludiamo dandoci appuntamento se credete al prossimo capitolo alla prossima puntata laudentur Jesus et maria grazie Grazie a tutti.